ciao questo è il solito video sui film che visto che l'avevano già annunciato la sua uscita volevo dedicargli questo video a questo film di animazione che si chiama il robot selvati selvaggio che dovrebbe uscire il 10 di ottobre verso la data ufficiali d'uscita a cima dovrebbe essere giovedì 10 ottobre di quest'anno del 2024 che dovrebbe essere distribuito dalla walt disney che il solito che come genere solito la solita avventura commedia che la parte della regia di questo chris sanders che visto che avevano annunciato la sua data d'uscita li volevo dedicare questo video anche se magari non l'ho ancora visto come film che sicuramente quando uscirà il 10 di ottobre che lo andrò a recuperare al cinema nel guardarlo magari li dedicherò qualche altro video su questo film che più che altro magari può risultare magari un po fantascienza come come film d'animazione che come si dice che come film hanno ho visto che avevano già dato la sua data d'uscita grazie ai trailer che che ho visto che già da marzo sono usciti i primi trailer di questo film che qua in italia dovrebbe uscire come ho detto prima il 10 di di ottobre ma nelle sale cinemato cinematografiche in america uscita quella decina di john con le due settimane prima che dovrebbe uscire il 27 di settembre su questo film di animazione parla proprio dovrebbe parlare che dopo un naufragio questo robot intelligente di nome roth rimane bloccato su un'isola disabitata che per sopravvivere al duo ambiente roth questo roth questo robot che si chiama roth lega con gli ali con gli animali dell'isola e si occupa di occupa di un cucciolo dopo ha rimasto fanno che più che altro mai la trama in sé delle firme e a dovrebbe essere questa che 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 dovrebbe parlare di questo robot che magari il nome intero di questo robot è l'unità rozzum 7134 che ha abbreviato rozz che dopo una come stavo dicendo prima che dopo un naufragio si ritrova su un'isola disabitata che doveva imparare adattarsi allo stile ambiente circostante costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell'isola e nello stesso momento ad ho adotta questa occhetta orfana che che la trama dei film questo qua di animazione dovrebbe essere dovrebbe essere questa che come stavo dicendo prima quando lo andrò a vedere al cinema gli dedicherò sicuramente qualche altro video su questo film il robot selvaggio che magari sotto in descrizione vi lascio come al solito tutto il cast degli attori che hanno messo la loro parte a mettere la voce su in questo film di di animazione assieme magari i primi video trailer che si possono trovare come al solito se trovo logicamente anche qualche altra informazione magari in più sempre su questo film trovate tutto sotto in tutto sotto in descrizione che volevo tipo volevo magari visto che avevano annunciato la sua data d'uscita li volevo tipo cominciare a dedicargli questo video e portarlo sul mio canale che al massimo per parlare ancora su questo film di come è andato al cinema e se magari è piaciuto magari anche alla gente magari come ho detto prima rifarò un video più avanti quando riuscirà al cinema che come film sicuramente magari essendo da animazione come si dice è adatto magari più che altro anche per i bambini però magari è uno di quei film che si possono guardare anche tra magari tra genitori e figli che può essere uno di quei film che può piacere ma lei anche ai genitori però più che altro della trame in sé che dovrebbe essere la trame in sé che dovrebbe essere questa qua che che vi ho detto che la parte della regia di di questo e di questo chris sanders che oltre magari alla wall disney dovrebbe qua in italia dovrebbe essere distribuito da questa universal piccola che logica come ho detto magari prima c'è questo tipo di informazione magari vedi lascio tutte sotto in tutte sotto in descrizione e niente che quello che potevo mai di e su questo film l'ho già detto al massimo quando riuscirò ad andarmelo a guardare farò un altro video con risposta magari con spoiler e di romare se da parte anche da parte mia mi ha piaciuto e niente per adesso magari vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao